Buona giornata e benvenuti su 01 TV. Anche oggi andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Tutte le mattine sono su 01 TV. Ecco le prime pagine. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!